che vanno a starnazzare in televisione ripetendo cose fruste, dette, ridette che non hanno progetto, non hanno un'idea che sia uno, hanno solo litanie pseudo-retoriche. Noi siamo la ragione, noi siamo quelli che hanno ragione. Abbiamo così tanta ragione che rappresentiamo il buon senso, il senso buono di quelli che pensano alla centralità dell'essere umano. Senza questo non c'è democrazia, noi saremo la democrazia in Europa.